buonasera a tutti gli amici del canale allora oggi siamo qui con un altro video che vi faccio vedere questo il relè allo stato solito e occhio agli errori che aliexpress può fare sulla merce che vi spedisce infatti vi condivido questo video con voi proprio per permettervi giustamente in allerta che controllate la merce prima di collegarla se ve l'hanno mandata giusta come avete richiesto voi onde evitare problemi e anche fare danni soprattutto a vostro impianto fotovoltaico o qualsiasi altro oggetto che magari ordinate e dovete giustamente usare a casa vostra questo qui è ancora nuovo nuovo impacchettato ora vi faccio vedere questo è il coperchio di protezione lo togliamo allora qui possiamo leggere io avevo ordinato un quella intanto questo qui è un come ho detto un relè allo stato solito questo qui la funzione sarebbe di collegare le batterie del fotovoltaico e i pannelli in caso che mancano per qualsiasi problema le batterie non rischiamo che mentre il fotovoltaico entra corrente dai pannelli dobbiamo bruciamoli l'inverter perché alcuni inverter non funzionano senza batterie quindi si bruciano di conseguenza appena stacchiamo le batterie di colpo quindi così con questo qui evitiamo di fare danni al nostro impianto al nostro inverter questo relè viene collegato qua il positivo e negativo della batteria infatti qui è vdc corrente continuo 3 32 volts quindi le mie batterie sono 24 e andrebbe bene fino a qui poi qui ho preso io un 100 ampere 24 480 ac io invece avevo ordinato un dc come qui invece mi è arrivato ovviamente questo qui è per la corrente alternata ac quindi non posso usarlo per i foto i pannelli la discesa dei pannelli fotovoltaici perché i pannelli fotovoltaici come ben sapete lavora lavorano in corrente continua non alternata quindi la corrente che scende dai nostri pannelli per entrare nell'inverter e corrente continua che poi l'inverter a sua volta con il suo algoritmo e tutti mosfet e tutto il sistema che all'interno trasformerà in corrente alternata in onda sinusoidale pura per la nostra abitazione e la possiamo usare per tutti i nostri apparecchi che abbiamo dentro casa quindi questo qui io dopo che mi è arrivato meno male che ho dato un'occhiata prima non ho collegato nulla e poi attaccato il tutto perché si poteva fare danno si bruciava lui stesso non so poi cosa poteva succedere perché non è stato progettato ovviamente per la corrente continua ma corrente alternata per il lato superiore e di conseguenza non lo posso utilizzare ho contattato aliexpress ho spiegato facendo lo screen di quello che ho ordinato io e poi ho spiegato che è stato un errore suo di chi ha mandato il questo oggetto che ha sbagliato al posto di mandarlo in corrente continua l'ha mandato in corrente alternata quindi mi sono stati rimbostati i soldi in pieno 14 euro mi sembra per qualcosa e mi hanno detto di tenerlo e non non hanno voluto il reso quindi l'ho ottenuto e ma non ho diciamo per adesso non ho idea di che farmene e dove utilizzarlo tutto qui quindi volevo informarvi di questa cosa e invitarvi a fare attenzione quando vi arriva la match controllatela sempre e se avete qualche problema contattateli e vi fate fare un rimborso fate un reso state attenti comunque perché anche può capitare che involontariamente si si installa non si ci fa caso e facciamo dei danni perché per la no sbaglio nostro ma di vabbè ragazzi volevo informarvi di questa cosa un saluto e iscrivetevi al canale mettete mi piace se se è stato di vostro gradimento e alla prossima grazie